Luciano D'Amico è il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo delle Ceramiche di Castelli. L'obiettivo della nomina di D'Amico, che ha ricoperto negli anni passati importanti ruoli, come quello di Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, è quello di creare un team di lavoro di altissimo profilo che raduna personalità selezionate, in grado di fornire al museo tante diversificate competenze che possano contribuire ad una rinascita a un rilancio dell'ente museo e dell'intero territorio. Sono molto molto orgoglioso, io e la mia amministrazione, quest'oggi, di presentare la nuova governance del museo. C'è la presenza del professor Luciano D'Amico, che ci onora, ha voluto rivestire il ruolo di presidente, ma un direttivo di grande valore, di grandi competenze, soprattutto di grande, grande passione per Castelli e per la sua ceramica. Come sapete, io ho consegnato più volte alle vostre telecamere, come dire, i progetti, iniziative per rilanciare. Sicuramente uno dei cardili su cui noi vogliamo costruire la ricostruzione di Castelli è il museo. Quindi noi ci aspettiamo che, come dire, la convergenza di figure tecniche, ma anche di politici che sappiano allocare le risorse possa permetterci di sviluppare tanti progetti importanti per il museo delle ceramiche e per Castelli. Il museo delle ceramiche di Castelli è un'istituzione di grandissimo rilievo perché conserva una delle più grandi collezioni di maioliche castellane, ma si propone di essere anche attore vivace della scena culturale grazie alle mostre, alle pubblicazioni e alle attività laboratoriali e al lavoro di promozione e ricerca, dei quali capofila. Un grande prestigio per l'incarico in sé e anche per l'autorevolezza dei colleghi con cui si lavorerà insieme per far sì che questa, che è una delle poche eccellenze espresse dal nostro territorio, una delle poche volte in cui il nostro territorio è riuscito a creare un'interpretazione assai originale, un'interpretazione artistica assai originale, possa essere assunta un po' anche come modello per restituire al nostro territorio la capacità di progettare il proprio futuro. Credo che lavorare in questa direzione possa essere utile non solo per l'istituzione, ma per il ruolo che questa istituzione potrà svolgere nell'intero sistema economico e culturale della nostra regione.